Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch ragazzi, grazie a mamma roxar e a questo aggiornamento 1.44 ragazzi, abbiamo questo solo money glitch, per fare questo solo money glitch che cosa serve ragazzi? Si serve un bunker con dentro il com e dentro il com dovremmo avere un'auto con targa non personalizzata, non è necessario avere una targa personalizzata per fare questo glitch, quindi passiamo al glitch, lasciamo fuori l'auto e la mettiamo dove l'abbiamo appena messa. Quindi che cosa dobbiamo fare ragazzi? Appena usciti fuori dal bunker ci registriamo come CEO, chiediamo un elicottero, questo glitch lo potete fare tranquillamente in sessione privata, quindi non avete bisogno di nulla, non avete bisogno di amici, non avete bisogno di nulla, avete bisogno solamente dei requisiti che vi andrò ad elencare man mano che vedremo nel video. A questo punto ragazzi prendete il vostro buzzard e vi dirigete o il buzzard o qualcos'altro vedete voi, pur a piedi per me va bene lo stesso e vi dirigete presso la vostra base operativa ragazzi, quindi andrete nella vostra base operativa, io qui sono arrivato parecchio lungo rispetto a quello che doveva andare, però non è importante. Entrate nella vostra base operativa e nella vostra base operativa ragazzi che cosa dovete avere? Dovete avere la famigerata BMX ragazzi, quante volte vi avevo detto mettete la BMX in base operativa che potrà tornarvi utile ragazzi? Quante volte parecchie, spero che mi abbiate dato retta perché a questo punto ci tornerà utile la BMX. Il glitch per duplicare la BMX mi sembra funzioni ancora, però dopo verificherò, intanto che cosa dobbiamo fare? Come nel vecchio glitch ragazzi, dobbiamo andare nel nostro dormitorio, metterci vicino alla porta di uscita e premere freccia destra e R2 insieme. Ci lascerà uscire dalla nostra base operativa e il gioco sarà fatto ragazzi, avremo già pronto il nostro clone. Quindi prenderemo nuovamente l'elicottero e ci dirigeremo nuovamente verso il nostro bunker. Io qui ce l'avevo un po' lontanucci, oddio un po' lontanucci, più vicini da così mi sa che non se può, però comunque sia va bene. Ci dirigiamo verso il nostro bunker e andiamo a ultimare la duplicazione ragazzi, perché qui andiamo a fare qualche soldino. Quindi rientriamo nel bunker. E adesso vi faccio vedere una cosa ragazzi, allora più di una cosa, in primis vi faccio vedere la targa. Vedete è targata alle tigri ragazzi, ok? Qualcuno mi dirà ma questo glitch è vecchio, è pacciato, è un fake, non è più funzionante. No ragazzi, no, allora per dimostrarvi che siamo nel nuovo DLC vi ho fatto vedere le supercar che sono uscite oggi. Per dimostrarvi che siamo nel nuovo DLC vi faccio vedere che ci sono i nightclub e in più vi faccio vedere anche il DLC 1.44 ragazzi. Eccolo qui, abbiamo 1.44, quindi che cosa volete di più dalla vita ragazzi? Il glitch è ancora funzionante, guardate, anzi è tornato a funzionare grazie a Mamma Rockstar, guardate la targa come è cambiata ragazzi. A questo punto l'unica cosa che dovrete fare è mettere l'auto nel centro operativo. Ovviamente vi dirà che è pieno ma voi non gli date retta, insomma anche perché è l'auto che avevate nel bunker prima. E rimetterete l'auto dove l'avete presa appena adesso per continuare a fare il glitch ragazzi, è semplicissimo. Quindi vi basterà riposizionare l'auto qui e continuate a fare il glitch come ho fatto io in partenza. Io in questo caso non continuo il glitch ma me ne vado nella base operativa per farvi vedere che l'auto è stata duplicata. E che quindi abbiamo già i nostri primi 900.000 ragazzi, il nostro primo milione bello bello pinto pinto del nuovo DLC nightclub after hour. Chiamatevelo come cavolo vi pare o come cazzo vi pare. E noi abbiamo la nostra bella duplicazione ragazzi, i nostri bei soldi facili. Spero di portare qualche altro glitch che non richieda BMX. Intanto cercherò di accertarmi se qualche altro glitch magari più facile di questo è funzionante. E se funziona ancora, intanto per questo glitch ringrazio Bito501 mi sembra che mi ha segnalato questo glitch. Anche se avrei avuto intenzione di provare tutti gli altri glitch piano piano, però oggi ero impegnato un pochino con i contenuti del DLC. Che ritroveremo nuovamente domani perché se vi porto tutti oggi, insomma, domani che vi porto raga? No, non è vero. Ma vediamo fino a quanto ho voglia di fare video e poi vediamo che cosa fare, insomma. Detto questo ragazzi, veramente non ho nient'altro da aggiungere. Approfittate di questo glitch finché funziona, finché mamma Rockstar non lo faccerà di nuovo. Detto questo, un saluto a tutti ragazzuoli, buon glitch e al prossimo video!